Sicuramente il punto è questo perché è il chilometro 6 e 400 della Salerno-Reggio Calabria dove devo parlare di sistema di rilevamento di velocità, ma qualcosa non va perché lì c'è scritto Virgilius e non Tudor sulla Salerno-Reggio Calabria. Comandante? Marcellino, in autostrada, appiedato e già siamo alla prima infrazione. Ti avevo detto aspettami per parlare del Virgilius, ma non sotto il portale. Andiamo in area di servizio. Marcellino, adesso possiamo parlare del Virgilius. Finalmente. Bene, si tratta di un sistema di rilevamento della velocità media che utilizza una tecnologia con dei radar. Radar che intercettano il flusso veicolare, calcolano il tempo o la velocità media di percorrenza e sono in grado di sanzionare tutti quegli utenti che superano i limiti di velocità. Il limite è sempre quello dei 130 km orari presente su tutte le autostrade italiane. Voglio però ricordarti che il sistema Virgilius, che è in funzione dal 16 luglio del 2014, rappresenta una novità dal punto di vista tecnologico, perché i portali sono presenti subito dopo gli svincoli di entrata e prima degli svincoli di uscita. Quindi l'intera tratta è coperta da questo sistema di rilevamento della velocità media. Una tecnologia amica che ci accompagna sempre. Sì, una tecnologia amica che consente quindi di controllare i flussi veicolari, abbattere l'incidentalità e soprattutto far sì che le pattuglie della Polizia Stradale siano ancora più presenti sul territorio per quelle attività di vigilanza stradale e soccorso all'utenza. E allora grazie a Virgilius. E arrivederci al prossimo appuntamento con la sicurezza stradale.